Esercizi commerciali chiusi la domenica ad esclusione di farmacie di turno ed edicole. Niente venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri comuni. Niente pratica sportiva all'aperto, anche se individuale. Uscire di casa per acquisti urgentissimi e solo una volta al giorno. Far passeggiare il cane solo ed esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Nei mezzi di trasporto pubblici consentito l'ingresso solo nella misura del 40% dei posti omologati e sempre rispettando la distanza di un metro. I comuni che non l'hanno già fatto dovranno provvedere immediatamente alla sanificazione delle strade urbane, edifici pubblici e scolastici, aree a verde pubblico e parchi gioco chiusi. Sono in sintesi le principali nuove direttive impartite nell'escorsione dal governatore della Sicilia Nello Musumeci per fronteggiare ancora più drasticamente l'emergenza coronavirus, visto l'aumentare dei casi, il rientro di persone dal nord e la mancanza di strumenti di protezione personale, come ad esempio le mascherine. Ordinanza sempre più stringente e anche attesa da molti sindaci che già da tempo miravano in tal senso. È il caso del primo cittadino di Modica, Ignazio Abbate, che proprio oggi comunica ad aver accolto con grande soddisfazione quanto deciso dalla regione. Non solo, Abbate tiene anche a ricordare che tali misure di sicurezza, in parte, erano già state adottate nel comune di competenza, già dallo scorso fine settimana, quando lui stesso ordinò la chiusura dei supermercati la domenica. Ordinanza che però, suo malgrado, fu respinta dalla prefettura di Ragusa. Adesso si applica quanto fu invece bloccato prima. Domenica scorsa, ricorda Abbate, la grande maggioranza dei supermercati era comunque rimasta chiusa, mostrando buonsenso e attenzione anche per la salute dei lavoratori. La decisione del presidente Musumeci è sulla stessa linea di pensiero. Ho letto, da qualche parte continua il primo cittadino di Modica, che si tratterebbe con molta fantasia di un'ordinanza anti-Abbate, visto che negherebbe quanto da me ordinato ieri, ovvero la chiusura anticipata alle 18 delle attività commerciali. Fermo restando che non stiamo facendo una gara, ma stiamo combattendo tutti insieme una battaglia fondamentale in realtà. È un'ordinanza che certifica l'ottimo lavoro svolto a Modica nelle ultime settimane, a cominciare proprio dalla riduzione di orario. Il comma 3 dell'articolo 3, infatti, dà piena libertà ai sindaci di ridurre l'orario di lavoro delle attività, tranne per supermercati che potranno godere del riposo domenicale. Abbate, inoltre, comunica che già da questa mattina ha modificato l'ultima ordinanza sindacale, escludendo i supermercati alla chiusura anticipata alle 18. Per il resto, la sanificazione di strade ed edifici era stata già calendarizzata ed avviata a suo tempo. Insomma, per Abbate, misure stringenti, attese ed opportune, così come una bella notizia l'aver appreso circa la negatività di tutti i dipendenti del reparto di analisi del Maggiore di Modica, che può ritornare già da questa mattina ad essere operativo.